Jason. Trovarono Leo in cima alle fortificazioni della città. Era seduto in un bar all'aperto affacciato sul mare, beveva una tazza di caffè ed era vestito con... cavoli! Un salto nel tempo! Era vestito nello stesso identico modo in cui era arrivato il primo giorno al campo mezzosangue. Jeans, maglietta bianca e un vecchio giubbotto militare. Peccato che quel giubbotto fosse bruciato qualche mese prima, si disse Jason. Piper lo abbracciò così di slancio che per poco non lo buttò giù dalla sedia. Leo! Santino, mi dove sei stato? Baldess! Edge sorrise. Poi si ricordò di avere una reputazione da difendere e si sforzò di guardarlo torvo. Se ti azzardi a sparire un'altra volta in questo modo, teppistello, giuro che ti stendo per un mese! Frank gli diede delle pacche sulla schiena così forti da farlo sobbalzare! Perfino Nico gli strinse la mano. Hazel gli stampò un bacio su una guancia. Pensavamo che fossi morto! Leo riuscì ad abbozzare un sorriso. Ehi, ragazzi! No, no, sto bene! Jason però intuì che non stava per niente bene. Non li guardava negli occhi e teneva le mani perfettamente immobili sul tavolo. Leo non teneva mai le mani ferme. Tutta la sua energia nervosa si era prosciugata, per essere sostituita da una sorta di nostalgica malinconia. Jason si domandò come mai quell'espressione gli sembrasse familiare. Poi si rese conto che Nico di Angelo aveva la stessa aria dopo aver affrontato Cupido fra le rovine di Salona. Entrambi sembravano avere problemi sentimentali. Mentre gli altri prendevano le sedie dai tavoli vicini, Jason si chinò verso Leo e gli strinse una spalla. Ehi, amico, cos'è successo? Leo lanciò un'occhiata al gruppo. Il messaggio era chiaro. Non qui. Non davanti a tutti. Sono finito su un'isola deserta. È una lunga storia. E voi ragazzi? Cos'è successo con Chione? Edge sbuffò. Cos'è successo? Per fortuna c'era Piper. Lasciatemelo dire. Questa ragazza ha stoffa. Coach, fece lei imbarazzata. Il satiro cominciò a raccontare la storia, ma nella sua versione Piper era un'assassina esperta di kung fu e c'erano molti più boreadi. Mentre Edge parlava, Jason osservò Leo preoccupato. Il bar aveva una vista perfetta sul porto. Leo doveva aver notato l'arrivo del Largo 2. Eppure era rimasto seduto lì a bere caffè, che neppure gli piaceva, ad aspettare che fossero loro a trovarlo. Non era da lui, per niente. La nave era la cosa più importante della sua vita. Vedendolo arrivare per salvarlo, sarebbe dovuto correre giù al molo, gridando a pieni polmoni. Hazel stava descrivendo il modo in cui Piper aveva sconfitto Chione con un calcio potentissimo, quando lei lo interruppe. Coach! esclamò. Non è andata così proprio per niente. Non avrei potuto fare niente senza Festus. Leo inarcò le sopracciglia. Ma Festus era disattivato. Eh, sì, ma... beh, diciamo che l'ho svegliato. Piper raccontò la propria versione dei fatti, di come aveva riavviato con la lingua ammaliatrice il Drago di Metallo. Leo tamburellò le dita sul tavolo, come se stesse ritrovando un briciolo della consueta energia. Non dovrebbe essere possibile, borbottò, a meno che gli aggiornamenti non gli consentano di reagire ai comandi vocali. Ma si è attivato in modo permanente? Significa che il sistema di navigazione è il cristallo? Quale cristallo? domandò Jason. Leo trassalì. Eh? Niente, niente. Ma poi cos'è successo dopo l'esplosione della bomba di vento? Fu Hazel a riprendere il racconto. Arrivò una cameriera con i menù. In un batter d'occhio tutti cominciarono a trangugiare panini e bibite, godendosi la giornata di sole quasi come un gruppo di ragazzi normali. Frank afferrò un depleant turistico infilato sotto il porta tovaglioli e cominciò a leggerlo. Piper dava dei colpetti sul braccio a Leo, quasi non riuscisse a credere che fosse davvero lì. Nico se ne stava in disparte e osservava i passanti come se fossero potenziali nemici. Edge si mise a sgranocchiare la saliera e la pepiera. Nonostante l'allegra rimpatriata però, tutti sembravano più pacati del solito. Quasi lo stato d'animo di Leo avesse contagiato gli altri. Jason non aveva mai pensato quanto fosse importante il senso dell'umorismo di Leo per il gruppo. Anche quando la situazione era gravissima, potevano sempre contare su di lui per alleggerire l'atmosfera. In quel momento, invece, era come se l'intero equipaggio avesse gettato l'ancora. E a quel punto Jason ha imbrigliato i venti, concluse Hazel. Ed eccoci qua. Cavalli ad aria calda? Leo fischiò. Cavoli, Jason! In pratica hai trattenuto un sacco di gas fino a Malta e poi l'hai lasciato andare? Jason aggrottò la fronte. Non sembra un'impresa molto eroica se la metti così. Sì, beh, io sono un esperto di aria calda. Forse dovrei dire aria fritta. Però continuo a domandarmi perché proprio Malta. Io ci sono finito su una zattera, ma è stato un caso oppure forse per questo? Frank diede un colpetto sul De Plain. Qui dice che a Malta ci viveva Calipso. Leo sbiancò. E... e quindi? Frank scrollò le spalle. Stando all'opuscolo, abitava su un'isola che si chiamava Gozo, poco più a nord di qui. Calipso è roba della mitologia greca, giusto? Ah, roba della mitologia greca! Eggio si strofinò le mani. Forse dobbiamo combatterla. Che ne dite, attacchiamo? Io sono pronto! No, borbottò Leo. No, non dobbiamo combatterla, coach. Piper aggrottò la fronte. Leo, cosa c'è? Hai un'aria... niente! Leo balzò in piedi. Ehi, dobbiamo darci una mossa! Dobbiamo metterci al lavoro! Ma dove sei stato? domandò Hazel. Dove hai preso quei vestiti? Come... accidenti, ragazze! Sbottò lui. Apprezzo l'interessamento, ma non mi servono due mamme di scorta! Piper sorrise, perplessa. Va bene, ma navi da riparare! Esclamò Leo. Pestus da controllare! Dea della terra da prendere a pugni in faccia! Cosa stiamo aspettando? Leo è tornato! Spalancò le braccia e fece un gran sorriso. Era un buon tentativo, ma Jason notò la tristezza che gli velava lo sguardo. Gli era successo qualcosa. Qualcosa che aveva a che fare con Calipso. Jason tentò di ricordarsi la leggenda. Era una specie di maga, tipo Medea o Circe, probabilmente. Ma se Leo era riuscito a fuggire dal covo di una strega cattiva, come mai era così triste? Doveva parlargli più tardi, assicurarsi che stesse bene, si disse. Per il momento, Leo non aveva voglia di essere sottoposto a un interrogatorio. Questo era chiaro. Il figlio di Giove si alzò e gli diede una pacca su una spalla. Leo ha ragione, dovremmo darci una mossa. Tutti afferrarono il concetto. Si misero a incartare il cibo avanzato e finirono le bevande. All'improvviso, Hazel sgranò gli occhi. «Ragazzi!», indicò l'orizzonte a nord-est. All'inizio, Jason vide soltanto il mare. Poi una striscia di oscurità attraversò l'aria come un fulmine nero. Quasi la notte avesse squarciato il giorno. «Non vedo niente!», bofonchiò Hedge. «Neanch'io!», disse Piper. Jason scrutò le facce degli amici. Quasi tutti erano perplessi. Nico sembrava l'unico oltre a lui ad aver notato il fulmine nero. «Non può essere!», borbottò. «La Grecia è a diverse centinaia di chilometri da qui!». L'oscurità lampeggiò di nuovo, dissolvendo per un attimo i colori dell'orizzonte. «Secondo te è l'epiro?». Jason sentì vibrare una scossa per tutto lo scheletro, come gli succedeva quando veniva colpito da una scarica a mille volte. Non capiva perché riuscisse a vedere i lampi neri. Non era un figlio degli inferi. Ma aveva una bruttissima sensazione. Nico annuì. «La casa di Ade è aperta!». Qualche secondo dopo, il rombo di un tuono li investì come una scarica di artiglieria in lontananza. «E' cominciato!», dichiarò Hazel. «Cosa?», domandò Leo. Quando comparve un altro lampo, gli occhi dorati di Hazel si fecero scuri come un foglio di alluminio nel fuoco. «L'ultima offensiva di Gea!», spiegò. «Le porte della morte stanno facendo gli straordinari! Le sue forze stanno entrando in massa nel mondo dei mortali!». «Non ce la faremo mai!», disse Nico. «Quando saremo arrivati ci saranno troppi mostri da combattere!». Jason strinse le mascelle. «Li sconfiggeremo! E arriveremo là alla svelta! Leo è tornato! Ci darà la velocità che ci serve!». Si girò verso l'amico. «Oppure è solo aria fritta!». Leo abbozzò un sorriso. I suoi occhi sembravano dire «grazie!». È arrivato il momento di volare, ragazzi!», annunciò. «Zio Leo ha ancora qualche asso nella manica!».